In arrivo nuove misure per il congedo parentale. Si passa dai tre giorni attuali a dieci giorni. Aumenta da 6 a 12 anni l'età dei figli per cui si può soffrire di questa misura e viene esteso il diritto all'indennità di maternità per lavoratrici autonome e libere professioniste anche per gli eventuali periodi di astenzione anticipati per gravidanza a rischio. Sono questi alcuni dei contenuti approvati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Nello schema di decreto legislativo approvato oggi dal Governo nel ricepimento di una direttiva europea è previsto anche che i genitori con figli fino a 12 anni avranno priorità nell'accesso al lavoro agile. La stessa priorità è riconosciuta ai card giver, ovvero coloro che assistono a un familiare non autosufficiente. Nel caso di congedo parentale per un figlio in condizioni di disabilità grave l'indennità che spetta ai genitori è sempre del 30%, ma per un periodo prolungato di 3 anni. È stata aumentata da 6 a 12 anni l'età del bambino entro cui i genitori anche adottivi e affidatari possono soffrire del congedo parentale. Inoltre i mesi di congedo coperto da indennità pari al 30% della retribuzione sono aumentati da 6 mesi a 9 in totale.